E qui in questa cappella si prega e l'animazione di questa preghiera da sempre, da secoli, è data alle cosiddette parenti di San Gennaro. Sono parenti perché figlie, devote, che nel corso dei secoli hanno tramandato la devozione a questo grande santo. E la signora Anna è una delle poche parenti cosiddette di San Gennaro. Sì, Anna, ci fai sentire qualcosa? Popolo mio, vado e confesso, popolo mio, non peccare più, chi sta a San Gennaro che ha pregato a un buon Gesù.